Buongiorno, l'associazione Fan Italia che penso tutti conoscete perché credo sia l'associazione che al mondo ha prodotto la documentazione più ricca sul tema dei pesticidi negli ultimi dieci anni. Sono famosi, parecchi degli studi promossi da questa associazione si fa, che vuol dire Pesticide Action Network ed è un network che è presente in tutto il mondo, nel Nord America, è molto forte, è molto forte in Europa e anche in Africa e in Asia in Europa ci sono dei panni nazionali molto ben organizzati in Francia, in Germania soprattutto e anche in Grecia, per dire anche in altri stati, ma adesso da quest'anno è presente anche in Italia nel senso che abbiamo costituito una sezione in Italia in cui è il Presidente e il Professor Taffetani e merito studioso di queste cose e di cui fanno parte già parecchie persone e parecchie realtà che sono distribuite su tutto il territorio nazionale. Il lavoro di informazioni fatto da questa associazione è recuperabile sui siti internet, purtroppo è tutto quanto in inglese, è quasi tutto quanto in inglese e uno dei nomi che noi ci siamo dati da subito e quello di tradurre almeno gli studi più importanti perché sono assolutamente interessanti ed è possibile utilizzarli nell'informazione poi dopo più diffusa. Questo lavoro che abbiamo iniziato continuerà nei prossimi mesi e nei prossimi anni e ci teniamo naturalmente ci teniamo a far diventare questi studi e queste analisi delle proposte che poi vanno fatti agli stati e alle regioni e alla UE e che dovrebbero un pochettino a volta cambiare le politiche alle regioni e alle regioni che vengono a lavorare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E ci fa molto piacere che da qualche anno sia lì, c'è nata Isle, l'Italia, i medici ci diano una mano per copartare, che la portiamo avanti, che la stessa trenta è, e poi in Italia. Quindi buon lavoro a questi giorni. Grazie. Per il coordinamento di pesticidi no grazie, c'è il Cini. Buongiorno a tutti. Il coordinamento nazionale pesticidi no grazie ha un anno circa di vita, formato da militanti di tutte le associazioni e in qualche modo si riconoscono in questa battaglia contro gli pesticidi in agricoltura. e si sta in questo momento convento con il pan di Italia. L'obiettivo è quello di convergere e di coordinare l'utilità che sia capace di essere all'altezza del scompo in alto, un edito, ossia il sapere scientifico con i delegami e tutte le forze di pazzo. Una cosa importante è che esiste già un manifesto, lo trovate sul sito pesticidi no grazie e lì convergono tutte le proposte, le iniziative, le selezioni di informazioni sulla proposta. Auguro a voi una buona giornata e che sia il futuro di oggi. Grazie. Bene, l'organizzazione della mattinata è questa, non so se ho perso la presentazione di Beghini, quindi non so se è già anticipato. No, no, no. Quindi sarà divisa in due sessioni, una prima parte riguardante appunto le problematiche che legano l'agricoltura ambiente, molto, diciamo, ci aspettiamo dalla nuova PAC e speriamo che questa volta appunto queste attese non vengano deluse, ma occorre appunto che sia come cittadini che come rappresentanze delle associazioni che sono qui in Stagio Poppe presentate siamo attenti a che appunto questo cammino venga indirizzato nel verso giusto che abbiamo avuto da perdere ancora, se continuiamo appunto con una finta applicazione delle normative europee di tipo ambientale. Ringrazio la partecipazione di molti direttori che ci sentirete, insomma, c'è questo cammino che è appunto già presente e pronto a relazionarci, il neurodeputato, Andrea Zanoni, che a differenza di molti politici appunto viene e ascolta e fa la sua relazione sentendo tutto quello che dicono anche gli altri, cosa purtroppo oggi è abbastanza rara, quindi apprezziamo molto questo cammino e sentiremo un po' le varie presentazioni. Io ho la prima però appunto do il compito di regolare i tempi perché lo vogliamo appunto interiare, quindi occorre una comunicazione che sia appunto molto asciutta, sintetica e chiara e per far questo quindi occorre un cermeno di polso e do questo compito, quindi almeno per la prima sessione a Salvador e poi per la seconda invece sarà Giovanni Bellini a fare questo lavoro di coordinamento, quindi vi cedo la parola. Grazie, è la seconda volta che vengo in questa sala da qualche anno, abbiamo fatto una grossa battaglia per una controcate due, nessuno sapete, quindi c'erano vari relatori e per fortuna qualcosa è successo anche su questo punto. Passando ai venticini, oggi è una tematica nascosta, assolutamente nascosta, ma soprattutto perché è nuova, è dietro a miglianti di interessi, ecco. oggi due associazioni, le più grosse che stanno lottando contro la dannosità della chimica in Italia, hanno fatto questa assemblea, ecco. An Italia e il coordinamento nazionale, mi chiedo, grazie, che tendono ad una decisione per dare una semestria maggiore a tutta l'operazione, diciamo, di proposta e di lotta. Questa mattina siamo purtroppo arrivati in ritardo, scusate, 10 e 10, il professor Tappetani ha già rinuncato i quattro relatori della mattina, ecco, e poi ce ne saranno uno, due e tre e quattro nella tarda mattinata. Se vogliamo dividere i tempi, io direi che purtroppo questi saranno stretti, potrei pensare che i relatori potrebbero avere un quarto d'ora circa a disposizione e quindi cercare di mantenere, diciamo, i tempi in questo senso, in modo da poter dare la parola a tutti quanti e andare, finire ad un radio accettabile e poi alla fine dare la parola magari anche al pubblico per domande specifiche che i relatori possono avere. Ecco. Se i relatori sono d'accordo, perché, diciamo, questo ritardo ha creato un po' di sconfuso rinforzamento, io proponerei questi tempi, quindi se non ci sono, diciamo, proposte contrarie, comincerei a chiedere al professor Tappetani di relazionare per primo, grazie, su questo tema, problematiche ambientali della nuova PASC 2014-2020, ecco, quindi una politica agricola comunitaria appena uscita, diciamo, delle proposte. Grazie, professor. Bene, mi scuso, ci andrò un po' rapidamente, perché avevo considerato 20 minuti, però cercherò di essere... no, c'è il tempo. Stavrò nei tempi, questo è qualcosa che è preciso. Il tema che mi sono proposto riguarda le problematiche ambientali dell'agricoltura, problematiche che spesso, appunto, vengono semplificate in maniera eccessiva, anche perché c'è una carenza informativa su quello che sono l'impatto delle attività agricole, soprattutto nelle zone andata di utilizzazione economica, di utilizzazione economica intensiva. La situazione del... quindi l'argomento che tratterò appunto riguarda questa situazione, la complessità di questi rapporti, il fatto che appunto vengano spesso, troppo spesso semplificati senza un'adeguata conoscenza e quindi vi darò appunto un po' di informazioni riguardo a molti lavori che sto facendo in questo ambito e di cui si ha veramente pochissima... il livello di conoscenza. La seconda e ultima parte riguarda invece appunto questa scopessa che noi abbiamo con la nuova PAC che appunto si sta sempre più, insomma sempre poi lavori, si sta sempre più diluendo in forme soprattutto, tra l'altro proprio promosse richieste, sollecitate anche dalle nostre rappresentanze, sia politiche che del mondo produttivo. Quanto saremo noi come italiani, come paese mediterraneo i primi beneficiari di una greening, di un cambiamento veramente forte della politica europea sull'agricoltura. Quindi servirebbe appunto un livello informativo molto capillare per rovesciare una situazione che ci si rivolge contro in tutti gli aspetti e di cui invece potremmo avere, tutto con la nuova PAC, lo stimolo anche tecnico ed economico per rimettere in una situazione veramente paradossale. Una premessa, le problematiche più importanti che noi ci troviamo oggi ad affrontare sono l'abuso dei filofarmaci e la perdita di bine densità. Per quanto riguarda il primo aspetto, l'Italia si colla da tre paesi e l'Unione Europea con più elevato il consumo di prodotti fitosanitari e questo miglioramento che tutto sommato in maniera lenta ma comunque capillare in cui si sono trasformati, utilizzati i principi attivi progressivamente più efficaci ma con quantità che normalmente meno importanti, il campo nazionale si risolve invece in un aumento tanto complessivo soprattutto per esempio dell'uso all'uso decisamente di diservanti, quindi una porzione dei pesticidi che vengono utilizzati appunto per quindi sia nelle coltivazioni specializzate ma anche nelle semplici coltivazioni di rotazione che è un'unione annuale e con una preoccupante espressione, la sostanza più conosciuta, il glicosate, che viene dato per facilmente degradabile, in realtà ce lo troviamo nelle acque tra le più importanti, la più importante sostanza e il finanzo presenta nelle acque superficiali, stranamente una sola ragione fa questo tipo di misurazione che è la regione Lombardia, quindi può basare solo su questa misurazione che risale già dal 2008 ma è stata confermata nel 2009 e nel 2010 e le altre regioni stanno ancora a guardare, questo è già un dato preoccupante che si vuole a nascondere qualcosa che ormai è evidente, quindi è una sostanza che non può essere più tollerata. Per quanto riguarda la biodiversità è una situazione particolarmente grave perché appunto è una biodiversità che stiamo perdendo in maniera graduale ma sistematica e capillare ed è una perdita di biodiversità che non riguarda la perdita di una fioritura, di una specie, ma riguarda la perdita di funzionalità del nostro sistema rurale, quindi è una perdita, questo è il mio lavoro, io cerco adesso in poche parole di spiegarlo avanti. Mi occorre conoscere gli agroesistemi per poter gestire il sistema ambientale a nostro favore. Un aspetto problematico, cerco di andare rapidamente, quindi saldo un po' le parti scritte, chi non conosce la condizionalità appunto è sottosommato l'imbuto al quale appunto devono sottostare tutte le aziende che vogliono accedere alle misure, al qualsiasi misura del PSR e pensate che appunto questa condizionalità che avrebbe dovuto permettere la protezione del suolo tra gli altri obiettivi, non è l'unico ma dal punto di vista dei terreni lavorati, insomma l'obiettivo più importante era quello di proteggere il suolo, proteggere i versanti dall'erosione e invece è stato l'elemento scatenante della perdita di biodiversità. Questa è l'immagine che compare nel sito del Ministero quando nel 2005 è stata presentata questa innovazione della condizionalità e se guardate appunto già in questo, i fossi acquai temporanei che sono quelli obbligatori hanno più di 80 metri che devono essere realizzati dalle aziende per poter accedere ai fondi e poter considerare risolta, superata la condizionalità, non tengono in nessun conto l'asse principale in raccorta, si fa riferimento ai fossi acquai temporanei ma nulla si fa riferimento a quello che è l'asse principale che deve raccogliere le acque e che già nell'immagine che dovrebbe essere quella virtuosa è già in fase erosiva, quindi immaginiamoci, farò vedere appunto qua invece la situazione reale. Questa era la normativa che avrebbe dovuto tutelare i terreni soprattutto di collina dalla perdita di suono. I risultati nelle aree collinari sono abbastanza preoccupanti, tra l'altro c'è questa diffusa abitudine o errata concezione che il riservo anche fuori delle aree coltivate possa allontanare le infestanti, cosa che invece si risolve esattamente l'opposto perché il maggiore è l'intervento, l'eliminazione della vegetazione stabile e perennile che c'è intorno al campo coltivato e il maggiore saranno le possibilità di arrivo di nuove e di più estese popolazioni di piante infestanti, pensate all'avena che è una specie più aggressive e che quindi poi diventeranno sempre più aggressive e avranno sempre più bisogno di trattamenti ripetuti anche durante l'arco dell'anno. Quindi appunto alcune delle applicazioni virtuose che qui sembra quasi un ricamo del terreno, però appunto guardate l'erosione che si innesca proprio perché non si rispettano, non si mantengono i fossi principali, la vegetazione nel fosso che svolge e questo è il risultato a livello di dettaglio. Abbiamo situazioni di erosione fattivamente grave e quindi perdita di biodiversità e di funzionalità soprattutto del tutto sistema idrico iniziale, il reticolo idrografico iniziale e naturalmente poi anche il resto. Il rapporto convenzionale biologico spiegheranno meglio gli rappresentanti dell'agricoltura biologica quindi da un salto completamente ma appunto abbiamo una situazione tutt'altro che vantaggiosa. La perdita di biodiversità dal punto di vista paesaggistico è notevole e tutto è aggravato da questa appunto abitudine a fare appunto a utilizzare in maniera perché è stato così trasmesso che il riservante si degrada rapidamente e il noco si può usare quindi senza nessun problema. Non è noco tant'è che tutte, come vi ricordate, è un seccatutto, cioè viene assorbito da tutte le specie vegetali che sono attive fotosinteticamente. Nel momento in cui arriva la radice dopo una settimana, 10 giorni, tutta la vegetazione è secca completamente e le scappate vengono immediatamente esposte all'erosione. In più c'è tutta la perdita di biodiversità dal punto di vista della fauna del terreno, della fauna che vive nella vegetazione, quindi è una semplificazione della ricchezza e della funzionalità del nostro sistema rurale che è veramente gravissima, perché noi stiamo già pagando gravemente. La conservazione dell'università va fatta insomma con attenzione e con conoscenza soprattutto, l'avuto del diserbo per esempio nei campi coltivati dove nasce con cognizione di causa per evitare che le piante intestanti possano impedire lo sviluppo delle piante coltivate, in realtà è svolto in modo così eccessivo come oggi viene realizzato, occupa contato alla perdita di tutta la flora segetale che per almeno 20 mili anni ha accompagnato le nostre coltivazioni, i nostri paesaggi rurali. Un esempio sono a Marchigiano, quindi ho studiato un po' tutte le regioni che si affacciano sull'Adriatico, però appunto naturalmente i miei dati più abbondanti riguardano questa regione e questa immagine mi serve per spiegare una situazione che riguarda anche il Veneto e tutte le regioni italiane, cioè che noi stiamo assistendo a una perdita grave di diversità sia nelle zone colinari e di pianura dove sappiamo già di aver fatto grossi danni e stiamo continuando comunque a perpetrarli, non abbiamo alletrato ancora di aver fatto, stiamo perdendo diversità che nelle zone pietemontane, le zone dove si svolge l'agricoltura marginale delle zone montane, dove l'abbandono invece delle pratiche tradizionali fa sì che noi perdiamo più diversità perché si tratta di un'ambientità antropica, un'ambientità tra l'altro che per noi è particolarmente importante perché è quella legata alla Pascolo, alla zootecnia all'aperto, i prodotti di qualità, a formaggi, carmi, degli usi turistici tradizionali delle zone montane, quindi è un'intera economia che noi stiamo facendo languire dove invece avremo più dubbio e vantaggio tutti che ci sia una ripresa importante. Ho messo a punto un sistema per analizzare la qualità di un paesaggio rurale anche fortemente antropizzato proprio per mettere a disposizione dei singoli agricoltori che per esempio passano dal convenzionale biologico o sono in biologico che vogliono dimostrare che il loro territorio ha caratteri di funzionalità diversi da un'azienda dove si fa agricoltura convenzionale basato sulle genosi erbace e con questo ha piaccato con alcuni indicatori tonistici, per esempio i carabidi per misurare alcune concentrazioni di sostanze tipiche sul terreno che la vegetazione non si riesce a misurare e soprattutto dei micromammiferi che permettono di misurare la frammentazione ambientale, vi faccio vedere alcune immagini, grazie, e con questo sistema praticamente si riesce a dare strumenti pratici per misurare la qualità ambientale interiore, vi faccio vedere due aree, una abbastanza complessa con sottilazioni annuali e frutteti e un'altra invece con una intensità di utilizzazione molto più elevata. Applicato questo sistema il colore rosso indica appunto perdita quasi completa dei diventi di naturalità, il verde indica invece la via via, il giallo e il verde, le aree che mantengono un livello di conversità accettabile. In alto c'è la prima area e in basso la seconda e qua il confronto tra aziende, quindi si può utilizzare a qualsiasi scala questo tipo di approccio e permette appunto di confrontare qui a sinistra le due aziende biologiche, a destra una biologica in alto in conversione sotto un'azienda convenzionale. Vedete che il risultato è abbastanza molto visto, questi sono poi i parametri numerici che permettono di dare un valore. Abbiamo misurato però rapidamente, abbiamo misurato anche la funzionalità del sistema etico, un bacino abbastanza acchio, 16.000 ettari dell'aschio che è una porzione del bacino dell'usone, nelle marche centrali, insomma a rivolso del parco del Conero per capirci e abbiamo studiato appunto di costruire tutta l'ideografia minore confrontata con quella degli anni 50 quando ancora non si faceva uso di lavorazioni meccaniche e circa il 30% del reticolo idrografico iniziale è stato completamente cancellato. Se la farei qualche esempio, questo è un dettaglio di una porzione, e qui sono le foto all'area e sul terreno di queste cancellazioni. Non c'è più niente, terreno lavorato e basta. Chiaramente questo significa che qui si ha erosione, a valle si ha accumulo o accentuazione l'erosione a secondo appunto che il tragitto del reticolo attraverso una località pereggiante o ancora in indipendenza e tutto si risolve in un'accelerazione del deflusso, una perdita di funzionalità, nessun abbattimento del carico organico e l'erosione merita di suolo veramente sensibile. Ci aspettiamo molto dalla nuova PAC, vado rapidamente perché sono già avvisato che sono nella fase conclusiva, quindi lascio insomma a un asilo di aree perché ho una cosa interessante, il fatto che si sta sempre radicando il cervello sulle superfici da lasciare queste fasce inerbite, tanto inerbite risolverete come, perché appunto se sono già presenti le fasce inerbite, quindi una rigenerazione stabile è una cosa, se le dobbiamo ricostruire naturalmente bisogna che le facciamo un po' più tempo, che non peggioriamo le cose, ma sulla pietra la cosa semplice sarebbe anche che fare, rapportarle alle dimensioni dei coci l'acqua, che spesso appunto in voi diventano una sorta di questioni da una caprina, se adattare a stabilire se sono un metro, due metri, sei metri e via, basterebbe che si lasciasse stabilmente una fascia per l'intervento di manutenzione, visto che i fossi hanno bisogno di essere, di avere manutenzione, una fascia di un metro e mezzo, massimo due metri, dove ci si può muovere con un mezzo meccanico per assicurare anche lo sfalcio della fascia cosa, ma poi la manutenzione del sistema idrico. Poi la costruzione di questi sistemi va fatta con criteri corretti, quindi con il riferimento insieme in campo locale, questo crea tutta una serie di attività economiche e importanti, nuove professionalità che oggi non ci sono e che non vengono richieste semplicemente perché stiamo continuando a danneggiare il nostro territorio, anziché costruire cose positive e questi sono alcuni dei servizi ecosistemici che dovranno caratterizzare le aziende che non saranno più finanziamenti su base produttiva ma su base dei servizi ecosistemici che potranno garantire. Anche qui abbiamo molto lavoro da fare, mi piace concludere un po' con questa slide che è la parte vista per aree antitunali, per fasce antitunali. Nelle zone di pianura e di collina dovremmo prevedere un'attenta applicazione della condizionalità, quindi eviti i problemi che abbiamo visto, l'applicazione dell'arriving degli arei di interesse ecologico, la sigla dell'inglese e soprattutto una cosa che dovremmo cominciare a pensare di fare è valutare i dati ambientali, quindi chi vorrà continuare a utilizzare pesticidi e a fare l'agricoltura intensiva dovrà pensare che non solo non vuole il servizio ecosistema, quindi forse non accederà a tutti i finanziamenti che richiede il poter avere il diritto, ma allora rispondere ai danni ambientali che sta realizzando e che sono stati perpetrati fino ad oggi. Le aree anticoordinarie e le montagne sono aree di interesse ecologico che possono essere più facilmente applicate e soprattutto c'è molto lavoro da fare sulle HNV Farman, cioè sulle aree agricole ad alto valore naturale, sulle aree per le montagne e montagne abbiamo la misura del PSR, per esempio per le aree svantaggiate e poi le aree naturali, le aree sintesi del PS. Molte regioni hanno fatto qualcosa ma siamo molto indietro rispetto a altri paesi dell'Europa e quindi stiamo rischiando di non prendere i finanziamenti perché avere i piani di gestione di queste aree, per poter permettere alle aziende di accedere ai fondi europei, non vale, quindi si dica non accedere ora ai fondi e tra qualche anno pagare sanzioni europee, quindi siamo veramente in una situazione molto grande e questo è il nostro patrimonio più delicato e più importante, quello delle zone montagne. Concludo, l'agricoltura che ha diritto a essere sostenuta, quindi della nuova PAC deve rispondere ai bisogni della società, alla funzionalità e alla potenzialità ambientale, deve cioè produrre alimenti sani e di qualità, mantenere la diversità, un ambiente funzionale e un paesaggio gradevole per attivare la salute di operatori e cittadini, solo così può divenire questa dell'attività agricole, possa divenire un'opportunità anche economica, anziché costituire un problema. Questa è l'immagine conclusiva, guardate che cosa può fare una fascia di vegetazione, tra l'altro non particolarmente matura, ma appena una piccola fascia sulla sinistra dell'agricoltore che l'ha lasciata, mentre quello di destra ha eliminato tutto. Guardate il fosso, ha una disimetria legata proprio a una piccola fascia di vegetazione, non strutturale, quindi di pochi centimetri, guardate che rispetto a... Grazie, 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 grazie. Grazie a tutti. 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 e a tutti. e a tutti. Grazie 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 a tutti. e a tutti. e a tutti. Grazie 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 a tutti. e a tutti. Grazie 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 a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. qui a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie 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 a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. qui. Grazie a tutti. e a tutti. e a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. e tutti. e a tutti. Grazie a tutti. e 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 tutti. e tutti. e a tutti. e a tutti. e 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 tutti. 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 e tutti. 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 e tutti. e tutti. 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 e tutti. 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 e tutti. 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 di tutti. 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 se tutti. 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 ... 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 ...... ... ... ... ... ... ... ...... ...... ...... ... ... ... ...... 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 ......... 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 ...... ......... 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 ...... ...... ......... ...... di midagloprid un grammo ha se io devo andare a ammazzare a pizzazzare questa sala non mi importa io ho un'alternativa con la mia punta un grammo di midagloprid ho 7,3 grammi 7 kg e 300 grammi dell'antico DDT la potenza tossica di questa roba è eccezionale hanno un'emidità lunghissima sono persistenti sono soltanto sensibili fotosensibili ma si ovviamente danno luogo a dei metaboliti che a loro volta hanno gli effetti che si tratta mamma mia quella relazione di prima per il poco che ho croccato sono contento di essere arrivato questa è e sono persistenti in un modo nuovo uno dice citotropico sistema cosa vuol dire? vuol dire che di errori una pagina di per via la bellaria arriva tra l'altra parte conci il seme vedete questi sono semi di mais gli metti intorno la polva quella che è la caffaro di una volta la pianta riassume e rimangono vivi dentro la pianta la pianta diventa insetticina nella sua limpa la morte nella vita allora questo è l'altro grande asse su cui si basa quel tipo di modello di agrocriminale criminale vi ricordate provo d'ostrigene ci provo però è anche mia passione quando è venuta fuori la storia delle api che in crisi bene questo è il grafico delle api dal 1940 ai giorni nostri negli Stati Uniti da me quella storia lì è venuta fuori a metà degli anni 2000 no? 2007 2008 bene signori questo è il grafico dell'utilizzo di questi nuovi insetticini negli Stati Uniti d'America 2005 2006 2007 2008 2009 2010 questo è il diametro santo questa è la quotidianità sono dati che da solo delle ragioni delle api le api sono il nostro canalino ma ci fanno vedere anche il lombrico e il resto e siamo arrivati a una decisione al fatto di riuscire a portare delle evidenze per quello che vi ho portato a staffare qua perché è frutto di una ricerca di tre anni fatta in Italia pubblica interdisciplinare e io di questo sono molto pieno perché siamo riusciti ad avere a portare delle evidenze scientifiche e a arrivare fino a una decisione come quella che ha assunto l'Europa questa primavera no? di sospensione per cui si è riuscita a superare questa parte di omertà perché il patogeno delle api perché tutti non fanno altro che trovare delle malattie il patogeno a questo punto e la diagnosi sono chi è riuscita il patogeno siamo noi sono i nostri consigli perché i fornitori hanno avuto la capacità di trasformarsi in coloro che decidono cosa e come dobbiamo coltivare e nessuno va a vedere che cosa c'è dietro nella crisi mondiale a questo binomio OGM e pesticidi alla faccia delle sette sorelle del petrolio come le che hanno fatto fuori un buon materico sei multinazionali si tengono il 77% del mercato mondiale e come se lo tengono e questi sono indizi in un momento di grande sviluppo di questo mercato della chimica che distrugge e con questi bei risultati economici se avete dei soldi dei risparmi mettetevi in azione perché io sono stato all'assemblea della singenta è un'azienda giovane ha una tozzina d'anni in confusione di due grandi aziende da due franchi svizzeri l'azione della singenta oggi è a 22 e hanno deliberato gli utili annuali del 19% la BASF ha appena annunciato che la sua previsione di business entro il 2016 la incrementa di altri 2 miliardi allora e qua arriviamo al punto nodale qua è come nel campo della finanza in realtà c'è un meccanismo perverso per cui manca una capacità pubblica del falsicarico e del decidere è una lotta impari assolutamente però intanto siamo dell'anno e questo io lo voglio ricordare perché ci tengo perché quella non è l'agricoltura criminale dell'anno dell'agricoltura famigliare questo è l'anno mondiale dell'agricoltura famigliare dove tutti dicono che l'agricoltura che sfama il mondo è questa qua e non quella di chi fa quel tipo di quindi io quello che voglio ricordare è che dobbiamo riappropriarsi di quello che è la grande ricchezza dell'Europa che è la tutela e che è la capacità di porre dei paletti e delle pericoli noi stiamo cercando di giocare in modo da non continuare a fare questa attività perché in questo modo che non prosegue in questo modo perché è inaccettabile stiamo facendolo a livello europeo come coordinamento degli agricoltori in relazione con chiunque su questi temi si muova e proponiamo che onorevole è lei? no è andato via è andato via è andato via è andato via scusami proponiamo in Europa in Italia dappertutto che le api siano utilizzate come un termometro sono un'agenzia ambientale eccezionale eccezionale ti testimoniano di tutto e quindi queste avrebbero inserite nella loro parte se dicono sostenibile io arrivo lì con il mio alveare voglio vedere se è sostenibile perché basta con questi aggettivi e la chiudo perché siamo a ritardo dicendo soltanto una cosa le api hanno l'abbiamo visto hanno un'eccezionale valenza emozione richiamano ce l'abbiamo da qualche parte i cosi del DNA ce le abbiamo dentro allora quello che voglio soltanto dire è che noi su questa cosa delle api finché ci riusciamo vogliamo veramente lavorarci perché e qua finisco davvero io vi devo raccontare due storie una è quella di un mio amico che adesso è morto una persona anziana che il giorno dopo l'anno dopo mi ha sospeso mi ha telefonato e piangeva e mi ha detto siamo scemi non abbiamo memoria sono come mia moglie alle rughe era molto innamorato di mia moglie aveva ritrovato le sue api perché aveva tolto il mio amico di noi e quest'anno un'altra storia le api in Romagna sono ritornate sui peschi abbottinati e quindi è possibile cambiare e io credo che possiamo farci grazie 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 ai precedenti datori di far cucurare a fare ricerca su queste cose perché la gente che vive nelle aree agricole intensive di cui oggi vi porto testimonianza vive male un'altra storia tra i po' la slide perché vi chiederete cosa si fa un ingegnere a parlare di aspetti sociali perché vi aspetterebbe un sociolo in realtà la cosa è complicata perché ci sono voluti dei tecnici ci sono voluti 7 anni di uno lavoro la notte che siamo dei volontari per capire che di dare agricole intensive dove si fa un'agricoltura di cui vediamo un po' di volvo adesso di cui si ha parlato oggi si vive male e in maniera anche insicura in altri punti il povero capo da un aspetto chi parla di queste cose chi parla male di questi cibi non parla male di agricoltori chi fa queste situazioni mi preoccupa però purtroppo ci sono tanti agricoli come la Gondiretti o altri di cui si è parlato hanno vedono con un attacco personale l'attacco ai pesticidi ma io le dico ma tu sei un agricoltore o tu sei un pesticida attenzione l'agricoltura produce cibo il cibo è vita nel settore primario senza cibo non cambiamo senza computer senza soldati ce la facciamo quindi la dignità importantissima è giusto sottenerla è giusto che ci sia la parte e che la parte assorba una buona percentuale di tutto il bilancio europeo è anche giusto ma forse non proprio troppo in questi tempi ci sono agricoltori dalle mie parti che fattano 100.000 euro all'anno e prendono 800 euro invece di essere familiari perché è un reddito che non appare sul pisco ma è questo che succede in tutta Italia il reddito non è un reddito che viene tassato normalmente però diciamo va bene sosteniamo l'agricoltura ma l'agricoltura deve sostenere la sostiene usate il gioco di parole e quindi deve dare due cose uno cibo pulito due deve dare rispetto di chi abita e che è il territorio che si fa l'agricoltura ecco l'agricoltura tre problemi dell'agricoltura moderna credo creale intensiva ambientale se ne è parlato salute pubblica se ne è parlato qualità della vita se ne è parlato e adesso entra il calcolo di ingegnere nel senso che questa è un'agricoltura eccessiva io vi ricordo la testimonianza di una torre famosa la Valle di Don quasi 8 mila età di meriti intensivi su 50 mila età nel territorio e dentro questo territorio ci abitano circa 40 mila città però attenzione in tutte le agricole intensive la cosa è la stessa anche dove c'è il dinieto intensivo valgono le cose più più oggi ma vale in maniera meno intensiva però comunque pesante il problema a volte che il paesaggio è anche ci sono più chili c'è l'entornato il ferro che è lì mi sono nato è il problema dei vitrofarmaci e del modo con cui vengono distribuiti purtroppo non c'è l'auto però qua c'è un rumore pazzesco chi abita in questa casa non vive sicuramente bene e quel giorno lì ma anche i due o tre e se li vessero i profili fossero quali a giorni successivi sono a rischio allora la mente è qua le strade la qualità della vita è compromessa qui si diceva per campo tecnico uno studio degli anni 90 dall'annuncio del 93 dice che dal 51% del pesticida è il loro obiettivo quindi ribaltando dal 50 al 99% dei pesticidi va in area acqua suolo addirittura a 50 metri dell'automizzatore il 45% dei pesticidi attivi a 50 metri dell'automizzatore sopra una sola di sicurezza a settembre dei tempi che è la quantità giornaliera di pesticida che teoricamente potrei sopportare altra situazione se lo studio dice che a 100 metri dell'annuncio di un atomizzatore ma c'è stato un metro sono le situazioni di rischio meglio quindi tutte queste case che sono dentro che hai bruttetti sono le situazioni di rischio ma nessuno va dentro lo hanno scritto negli anni 90 ma ce ne siamo accorti 7 anni fa quando abbiamo iniziato a studiare queste cose vedete le 90 di questo studio secondo il mondo però Cici però si è preoccupato questa situazione internazionale perché dagli anni 60 si è passato da 0,49 kg di pesticidi a 2 nel 2004 in Italia si è arrivato a 6,6 nel 2012 ma un dato puntuale veramente era intorno agli 7,8,9 dove si fa una cultura intensiva guardate 90 kg questo questo è un dato che loro dico io ma lo dicono i tecnici di istituto agrario di San Michele all'Advise un istituto nato dai buoni all'ospedale quando la gente moriva di fare e aveva detto si facciamo un istituto per insegnare i contadini a coltivare che a coltivare il cibo benissimo adesso questi consigliano i contadini per l'anno scorso 48 volte in pesticida da usare e questi sono i risultati 90 kg a etero che se facciamo il gruppo in Italia io prendo il dato l'anulista mi scuso con il precedente relatore però per carità questo è un dato ufficiale in Italia si sono stati venduti 1534 milioni di chili facendo un conto scusate i collatori contadini a quanto costano questi pesticidi ci sono certi che costano anche 100 euro al chilo ma metà metà abbiamo fatto per un conto modificio abbiamo ipotizzato circa 10 15 euro al chilo e fatemmo molti metà che in Italia va con i pesticidi quasi 2 miliardi di euro in Italia il contadino dispetto per acquistare i pesticidi e poi vediamo il perché quei bilanci per i cicciotti di quelle fitte che conducono i pesticidi e anche i benefici dati altro grafico sempre con il dato di vista qui vediamo l'effetto delle politiche piccole provincia di bozzaro che consumava all'inizio degli anni 2000 molti chili di pesticidi a ettaro questo è il dato sulla politica che non di più era invece un risacco delle scogli alle arricole spessive per quello a differenza perché non ci sono 90 kg loro hanno riscritto molto sul biologico e dopo 10 anni si vede questa pena di diabete la politica torna di 30 perché infatti non ha fatto una politica arricola ma l'assessore che ha fatto da Marco per le cooperative vediamo che c'è stato un aumento il 30 di aumento il vento anche quello può registrare un leggero aumento sui 10 anni però sui partitativi molto molto fu basso siamo sull'ordine dei 15 kg comunque non c'è da scherzare ricercatori dicono che aiuta il 50% dei pesticidi dopo 6 però questo gruppo di ricerca che c'era all'interno di quel istituto che si cavo prima è stato chiuso perché non c'è interessa dei pesticidi quindi la prima riflessione usiamo pura propri i pesticidi e allora ci possono avere sarò detto alcuni contattini e anche alcuni tecnici ci possono avere i pesticidi che si ha muoto da bene lo abbiamo un'etichetta captano sospetto canceroso non è da 40 oltre che tossico le bottiglie che vediamo non ho mai visto personalmente questo simbolo e questo prodotto non è molto tossico ma non si può usare almeno di 40 letri dai più da noi lo usano calcolamente adossi ai bambini per i piedi fossentini questa è terribile questa buonezza terribile già negli anni 80 la provincia torna di tempo in uno studio sconsigliare diceva sentito un po' che c'è che è il contatto gli effetti laterali sulla paura non utile questa sostanza ne vede un'istruzione di uso dei programmi di difesa guidata in pratica di lotta integrata guardate che qua vi parla la stazione non si fa l'idea integrata dagli anni 90 quindi questa è lotta integrata la lotta integrata è una bellatura perché la lotta integrata c'è dentro di tutto è un elacro con il quale non vi date incrociare le premesse della lotta integrata sono sempre molto belle ma poi a farvi vedere nel concreto succede questo sono scarsi che dagli anni 80 i tecci dicevano che vanno in un'idea questo è un pratamento fatto il 15 marzo del 2008 questa è una strada pubblica che connetta due paesi questa nuova questo ha un tempo ha un tempo di parezza di 40 giorni quindi qua direbbero ma per 40 giorni sarà il meglio che non transitarsi più in una situazione di reale e di totale precauzione malte per il partale eccetera sono sostanze oltre diciamo tante malte pericolose in questa seconda riflessione le togliamo dappertutto come si è già detto prima il professor lui è stato con Toccare e abbiamo finito i redattori ma noi abbiamo fatto una cosa in più come cittadini della base di noi ci siamo autotassati abbiamo speso quasi 10.000 euro gli abbiamo detto vogliamo fare un'analisi nostra indipendente dandola a degli esperti fuori conizia e abbiamo fatto più di 60 analisi da tutte le analisi sono sempre risultati sugli prodotti dei nostri orti sulle polvere delle case perfino dentro le case sono sempre risultati presenti residui di pesticidi ovunque fossero e allora il caso successivo e noi ci siamo dentro ci sono negli orti nei giardini nelle case i balconi dietro la casa e noi nei nostri corpi abbiamo affidato alla dottoressa prea dell'as di Pavia uno studio che ha analizzato le nostre origine per le nostre bambine e guardate il risultato tutti su dieci metaboliti li abbiamo cercati quando la venda sanitaria diceva che se ne poteva cercare soltanto uno noi li abbiamo cercati dieci e è possibile farlo li andiamo trovati otto nell'unico quindi un cocktail valore di metri 3,5 volte più alto di quelli di riferimento allora cosa succede? possiamo avere difficili in altri corpi nella venda o nella frutta ci sono i limiti massimi diversivi ma nel corpo umano non c'è niente perché non c'è niente? perché secondo alcuni famosi di interioresi mondiali come il professor Nardegas che ha scritto che i peopili fossentivi pubblicati sull'anice per le un'eserio perché i peopili fossentivi a cui i peopili sono esposti e i peopili con gli altri sembrani più piccoli ho confermato quanto ha detto chiaramente il dottor Buzzo allora è stato venito il barbambolino ecco allora io ho chiesto al professor Nardegas che ho voluto usciare in persona gli ho chiesto con questo all'anice il barbambolino ma professore quant'è il limite che possiamo accettare in un bambino del TCP che è metabolito del portiere di fossentivi rimetto ma più 90 a fare zero queste sostanze non ci devono essere ovviamente la popolazione italiana che abbiamo qui di riconosco microgrammi grano per la tiglia nel nostro capitale abbiamo trovato 6.3 valori 6.3 valori più alti una bambina di 5 anni aveva un valore di 44 sensi volte di più perché la povera bambina perché lei abitava vicino ai medi e la cittura che accettava era vicino ai medi lei era continuamente sposta giorno dopo giorno tutti i giorni ne vanno o meglio da marzo fino a novembre a questi volentieri quindi un giro guarda luce perché se un'ide c'è un dato proprio il sognare mia figlia arriva a soluzione perché lei era sposta soltanto di giorno tantissime case di cui arriviamo anche ad effetti sociali tantissime delle case di queste aziende sono adesso in mente se dentro a ripeto altro elemento di qualità della vita il cibo che mangiava è costaminato avvolzato sempre dalla stessa ponte di prima sui 60 campioni di neve zero erano altri cibi cioè avvolzato quei campioni che hanno trovato erano tutti con il cibo e il 65% aveva più di un cibo quindi diventa quasi una varità a provare frutta frutta che si può mangiare prodotti a piccoli sali e quindi fuori grazie a piccoli biologici e le associazioni che le sostenono perché ci permettono di diluire i veleni che abbiamo nei nostri forbi aiutandoci solo da il cibo con alimenti puliti quello filosofo tedesco già secoli fa diceva siamo quello che mangiavano quindi se mangiavano queste forcherie e questi venini diventiamo venini scusate questa diversione filosofica è poco ingegneristica ma io vi sto con il cibo che si è venendo immediatamente ritirati in casa che avranno di risciare cose difficili nelle giornate dicevole vedere chi va dirittata per questa ragazza qualità della vita la costituzione crede che l'isistrativa economica è libera ma non può svolgersi col fratto a libertà vività umana tutela della salute e dell'ambiente e l'utilizzo nazionale e l'essere troppo ebbene chi vive agrivole tercive non ha niente di tutto questo perché nell'epoca potrebbe arrivare fino a voi non posso usare spazi esterni come oggi c'è un giardino barcone non posso andare in vizio a piccoli quando fanno i frattamenti non posso continuare senza decidi non posso prendere i pali forti e dunque tanti rumori forti odori la parte di cui la verdura non può prodotta non poter passare l'estate agricole relazioni sociali brutte e peggiori perché se lo puoi andare nel territorio non puoi rinazionarsi maggiori tensioni e depressioni ma l'essere atti per gli animali e la vita potrebbe continuare è utilissima quindi si vive quasi meglio in città che almeno ti dà dei servizi artificiali ecocultura cibo eccetera che loro in campagna i cittadini però che arrivano al positivo si stanno organizzando in Italia i fredini sono tantissimi moltissimi vivono questo problema e tantissimi comitati cittadini che lo hanno sollevato nel settembre 2013 è stato un comitato nazionale che raccoglie 20 comitati di 8 regioni e di 13 regioni e quindi il problema è diffuso sul territorio ma questo è solidissimo a livello nazionale esistono movimenti importanti come il test action network riparo di cui è nata la sezione da Opa in Italia purtroppo sono i cittadini che devono sopperire si devono sostituire a quello che dovrebbero fare l'ecopultimo quindi l'ultima riflessione in molti vivono il problema le soluzioni ci sono quelle strutturali sono le varie varie esistenze presenti di cui non si è parlato ma sono il patrimonio di secoli di selezioni degli agricoltori che vengono tolte in mal di no c'erano più di 300 varietà di mele adesso ce ne sono 4 su 8000 etere nei semi di luglio a secolo la biodiversità la biodiversità non come singola spesso a forma di funzionamento del sistema come diceva bene prima le cose sono trattate un'agricoltura pulita teorica verità naturale la nostra è superata dal primo genale che sta non è obbligatoria in Italia mai sta superata quindi ci dovremmo un po' muovere per mettere dei paletti su questo paletto integrato per far togliere almeno quelle molecole più pericolose lo basta meno delle cose di attenzione perché poi è difficile tornare indietro quando vai in fratto diventa un frutto intensivo che ti fate come un capagnone è difficile tornare indietro migliorare il paesaggio non usare panni in legno non usare smento a parte investire sul turismo ecco qua la chiave di volta se rendiamo l'agricoltura più gentile nei confronti del residente ma anche nei confronti degli ospiti e creiamo un territorio che è accogliente vi è l'artipunista e quindi puoi affrontare quello che magari nel immediato ti sembra un mancato reddito che in realtà non lo è lo puoi affrontare con attività del turismo e poi adesso volo alto come comitato dovremmo proprio proporre quest'idea immaginate all'effetto l'Italia questo paese che è richissimo di paesaggio di patrimonio artistico noi chiediamo l'Italia del turismo immaginate che ritenuta avrebbe sul nostro turismo una signora di questo tipo il primo paese d'accordo che potremmo usare i sintesi perché per i sintesi intendiamo le molecole di sintesi ovviamente quelle non di sintesi che sono sempre fatte che non sono pericolose sono escluse da questa provocante acudovolocante snoga oppure poi tornando nei piedi da terra cosa possiamo fare ognuno di noi tutti noi quale questa sale io butto lì questa cosa perché dico questo dalle vostre parti proprio qui in vero che il tentico quello figlio di figli di figli di paese è dato padre Alex dall'autentico probabilmente tutti conosciamo lui è lì e è davanti dopo e lui c'ha sempre detto ma lo ha detto pubblicamente ragazzi voi andate a votare non quando ci sono le elezioni ma ogni volta che andate al supermercato e questo è vero perché purtroppo la politica è in mano alle grosse noti economiche perciò facciamo di più noi con le nazioni quotidiane individuali ma allargate da una bassa fratea che è un basso di uno di questi stessi che non i nostri politici con tutto rispetto per il lavoro e i valori che sta facendo proprio un lavoro che io leggo da anni gli suoi lavori e lui è uno che su questo tema sta lavorando bene ma in generale non c'è attenzione ecco qui cosa possiamo fare uscendo da questo convento perché sicuro se mi sono riducato accostarci miglioragici io non ci è a chilometro zero accettare tutte le vetture con difetti una vela da 100 millimetri di acqua non serve a niente è solo scopera io mi sono avvisato a mandare me dentro così perché la malattia è più buona e si è ancora fatto una malattia i bambini più di una minaccia di dos non pare quindi accettiamo la chiediamo e frutta di questa prima minore civile delle messe scolastiche questo va a essere quasi ottimo pretendere il vettore perché l'agricoltura si è rispettosa quindi abita deduciare si può rispettare le vetture rispetto e informarsi in modo fisico come peraltro si stiamo già facendo oggi i risultati sono evidenti più qualità della vita più salute più qualità del tale meno spesa ma non è possibile che i bambini pagano il 50% sui trattamenti più guadagni perché il prodotto pulito vanno il 30% di più e poi l'economia globale che è il territorio di milioni abbiamo 8 milioni e 400 milioni buoni motivi per fare questo e per essere più oggi e per uscire la piosi e informare chi dov'è qui questi sono i bambini e i ragazzi italiani che attualmente ci sono in Italia con 21-18 anni che un giorno quando forse le nostre azioni di oggi verrà capito che sono dannose ci vale tirato e ci diranno ma cosa avete condivato cosa ci avete lasciato avere terreni sporchi è un danno enorme già da un'altra e che è un'altra cosa 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 ma pensare di non evitare è da l'energia di terreno è impensabile dobbiamo essere sicuri nel ciclo di queste sostanze ma soprattutto dobbiamo non usare perché la ricoltura senza per il ciclo di sintesi è possibile quindi rispargliamoli naturalmente abbiamo la stessa rispargliamoli di entrare così ma qualche anno nei frattenti nei dieti intensivi ma assicuriamoli un qualcosa di meglio grazie per l'attenzione si sarebbe qualche intervento qualche domanda qualche questione da dare la parola a me ci aspettiamo qualche domanda capisco che alla fine stessiamo anche oltre l'orario comunque il messaggio che abbiamo ricevuto è sicuramente interessante e soprattutto il fatto che ciascuno di noi ha una parte di quello da sotto se c'è qualche domanda o che chiedi ancora diversi cantori sono presenti è una cosa non è una sola cosa sì grazie non so se hai mai stato un esempio di comfort perché la ricorsa di scariche di sostanza organica ma è stato detto che chi ha tentato di farlo e l'ha fatto per molti di scuole eccetera ha trovato dentro 30 diversi principi quindi neanche noi in agricoltura biologica non possiamo utilizzare un altro progetto non so se questo ne vuole da quello che mangiamo è l'interruzione un documento a nostro avviso molto importante che è la decisione della commissione agricoltura che ha delegato il governo a rendere pubblica la composizione dei conformulanti dentro i pesticidi e una cosa importantissima è stata l'interrogazione del Movimento 5 Stelle che è stata appunto approvata in una città da un paio di commissioni di giustizia e di agricoltura questo cosa vuol dire? vuol dire che adesso nelle etichette e chiaramente dovremmo starsi col piatto sul collo e quindi non avremo dei saloni di lavorare in questo senso perché questa indicazione delle commissioni venga portata avanti cioè nelle etichettature deve essere esplosa la composizione dei conformulanti che attualmente sono segreti voi dovete pensare che c'è un'azione surrettizia e mettono dentro nei conformulanti segreti nascondendo il processo perché sono i carezzi economici perché le aziende dicono io non posso rivelare tutta la composizione del pesticida se no me lo copiano e poi diventa un prodotto normale mettono dentro addirittura dei principi attivi quindi questo sta diventando un'azione di trasparenza che dobbiamo seguire fino in fondo appunto per ausitare la salute delle persone ecco dicendo che si muovete in frutto facca facca prego facca 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 c'è lei ecco mi voglio tutti e alle regioni presenti il prof. Cermina è uscito in giro verso il livello perché tutti insieme lo facciamo in sette mesi nove mesi una raccolta di firme ben da posta come diceva Bruno e mi dà la sensibilità c'è un troverso prego regione per regione ma poi tutti insieme andiamo a consegnare o a Roma o ai vari di stile ragione qua bisogna di un'autorosa penso che una raccolta di firme come al vecchio sia la risposta del vecchio del vecchio grazie a tutti grazie a tutti per aver ascoltato le relazioni sono a me sconvolto perché veramente molte informazioni sono nuove anche per me quindi ovviamente riusciamo un po' debilitati ma sicuramente rafforzati grazie a tutti grazie grazie a tutti 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 grazie a tutti